L'origano, nome scientifico Origanum vulgare, è una spezia tipicamente mediterranea prodotta da una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle Lamiaceae. Intrigante è la sua storia e particolari sono i vari procedimenti che portano all'ottenimento del prodotto finito che tutti conosciamo e che tanti apprezzano non solo per il gusto ma anche per le diverse proprietà benefiche. Noi ne parliamo tra pochissimo, dopo la sigla. L'origano L'origano è una pianta assai diffusa nel bacino del Mediterraneo, organizzata in formazioni cespugliose dell'altezza fino a 60-70 cm che trovano il loro habitat preferito su terreni a matrice rocciosa, molto soleggiati e dunque particolarmente aridi. Il nome originale dell'origano deriva è un nome composto che deriva dalla fusione di due termini greci, oros che vuol dire montagna e ganos che vuol dire splendore, tanto per dire che l'origano tende a crescere spontaneamente anche in collina ed in montagna laddove spicca per le sue infiorescenze di colore rosa-violaceo, infiorescenze che rendono di fatto questa pianta autentico splendore della montagna. Nell'antichità l'origano veniva utilizzato come colorante ma era anche noto per le sue tante proprietà benefiche e terapeutiche. In effetti lunga e leggendaria è la storia di questa spezia come ora ci racconterà Marco Renna. L'origano ha una storia antichissima, si dice che sia originario del Medio Oriente, nell'antica Grecia era molto apprezzato e veniva utilizzato nei matrimoni perché gli sposi si adornavano con ghirlande di origano, quale simbolo di prosperità e fertilità. L'origano arrivò in Europa grazie ad Alessandro Magno, ma fu nel corso dei secoli successivi che si affermò come vera e propria bandiera della mediterraneità. Oggi l'origano è uno degli elementi costitutivi della dieta mediterranea, pensiamo per esempio a quello che avviene anche con la stessa pizza Margherita che in una delle sue più note varianti utilizza l'origano come condimento. Negli anni drammatici della lotta al brigantaggio, subito dopo l'unità d'Italia, quindi nella seconda metà dell'Ottocento, una compagnia di soldati regi fu assalita da un manipolo di briganti nel sud della Lucania. Ebbene i briganti riuscirono ad impossessarsi di un tesoro fatto di denaro e preziosi che venne nascosto all'interno di un pozzo. E questo è il famoso tesoro degli origani perché il pozzo era completamente circondato da queste profumatissime piantine di origano. L'origano fresco è un alimento poco calorico che presenta piccole quantità di grassi e patine e quantità discrete di carboidrati, in particolar modo fibra. Dal punto di vista nutrizionale 100 grammi di origano fresco contengono 66 kcal, mentre 100 grammi di origano essiccato ne contengono 265. Ma quest'ultimo valore non deve preoccupare in quanto l'origano essiccato è quello che ha perso tutta la sua acqua naturale, quindi è l'alimento concentrato di cui assumiamo poi quantità particolarmente esigue, ben lontane dai 100 grammi. L'origano è anche una fonte importante di micronutrienti, in particolar modo minerali, quali magnesio, calcio e potassio. Sono presenti anche buone quantità di ferro, manganese e selenio. Mentre per quanto riguarda le vitamine spicca il contenuto di vitamina K, vitamina C, vitamine del gruppo B e beta-corotena. Per quanto riguarda la dose giornaliere raccomandata non ci sono particolari indicazioni, perché di origano soprattutto essiccato, poi in realtà ne usiamo quantità veramente ridotte e anche perché a questa spezia non sono associate particolari controindicazioni. Inoltre possiamo sfruttare il sapore intenso dell'origano per ridurre invece il consumo di sale a tutto beneficio per la salute. L'origano dunque è una spezia ricca di proprietà virtuose, essendo in grado di apportare all'uomo una serie di molteplici benefici. In realtà sembra che la disponibilità di principi attivi, cioè di sostanze benefiche presenti appunto nell'origano, possa variare in funzione dei periodi di raccolta dell'origano stesso. Quello che a questo proposito si può dire è che sarà sempre meglio raccogliere l'origano, non dopo delle piogge, perché l'acqua piovana tende in qualche modo a diluire le sostanze benefiche contenuti appunto in quest'erba, quindi preferire semmai di raccogliere l'origano nel cuore di un periodo di siccità. Tuttavia, a prescindere da quelle che sono i periodi o le fasi di raccolta dell'origano, va tenuto presente che questa spezia è particolarmente ricca di sali minerali, quali il sodio, il calcio, il magnesio, il potassio, è ricca di vitamine, ma è soprattutto ricca di sostanze antiossidanti, tra le quali vorrei ricordare in particolare il timolo e il carvatrolo, che sono praticamente due molecole fenoliche dotate di importanti, soprattutto la seconda, di importanti proprietà antisettiche. In realtà nell'origano è stata anche documentata la presenza di beta cariofillene, una molecola terpenica definita anche o ribattezzata aroma del benessere, che è certamente dotata di importanti proprietà antinfiammatorie e di regolazione dell'umore. A dire il vero ci sono una serie di proprietà terapeutiche che all'origano vengono in qualche modo attribuite, certamente quella antisettica, certamente quella antinfiammatoria, ma anche quella antalgica, oppure quella digestiva, cioè favorente in qualche modo i processi digestivi, quella antispastica, ovvero azione capace di contrastare i dolori addominali, oppure ancora un'importante azione sedativa della tosse. A proposito di proprietà antalgiche, secondo antiche usanze, in soggetti affetti da torcicollo, appoggiando un mazzetto di origano opportunamente riscaldato, si avrebbe una rapida risoluzione, o comunque una rapida attenuazione della sensazione di dolore. Va anche detto che infusi di origano aggiunti per esempio all'acqua del bagno avrebbero importanti capacità rilassanti, così come infusi di origano aggiunti agli shampoo sembrano in qualche modo determinare una maggiore vitalità, una maggiore lucentezza, una maggiore resistenza dei capelli. Dopo essere stato raccolto, l'origano viene confezionato in mazzetti, che verranno poi sottoposti a processo di essiccazione della durata di 8-10 giorni, per poi essere eventualmente lavorato, quindi sbriciolato e setacciato, e dunque ottenere il prodotto finito, che in tanti apprezziamo come condimento di tanti nostri piatti mediterranei. Vorrei solo aggiungere in conclusione che non si descrivono particolari controindicazioni all'impiego alimentare ovviamente dell'origano, a meno che non si tratti di soggetti con storia nota di allergia non soltanto verso l'origano, ma anche verso altre piante che dovessero appartenere alla stessa famiglia, cioè quella delle lamiacee, come per esempio il timo, il basilico, la menta. Aggiungo ancora che occorrerebbe prudenza nell'assumere origano da parte di quelle persone che dovessero aver avuto reazioni assumendo salicilati. Grazie a tutti!